Si è praticamente chiusa qualche giorno fa la procedura di infrazione dell'Unione Europea nei confronti dell'Italia per la presenza sul territorio di discariche abusive non bonificate e la Puglia è stata tra le prime regioni a concludere praticamente tutti i lavori per bonificare i sei siti in cui erano presenti discariche per cui è stato necessario intervenire nella post-gestione e che erano oggetto di infrazione per l'Unione Europea sin dal 2014. In tutto in Italia sono 71 su 84 le discariche abusive menzionate nel testo di notifica e bonificate dal commissario unico, il generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà. A renderlo noto sono stati i dati pubblicati dall'arma dei Carabinieri in questi giorni. A causa dell'infrazione l'Italia ha iniziato il 2 dicembre 2014 a pagare all'Unione Europea una sanzione di quasi 43 milioni di euro ogni sei mesi con un meccanismo che prevedeva però come prima razio una sanzione decrescente e diversificata di 200 mila euro per ogni sito di rifiuti solidi urbani bonificato o messo in sicurezza e di 400 mila euro per i siti di rifiuti speciali. Oggi dopo 14 semestralità di penalità complessive resta una sanzione da 5 milioni di euro a semestre. La Puglia è stata tra le prime regioni a concludere le procedure come detto e in particolare si è chiuso il primo febbraio scorso l'ultimo nodo aperto e cioè quello della Cobema di Canosa di Puglia per cui era atteso il collaudo tecnico-amministrativo da parte di un incaricato della provincia Bat. Conclusi praticamente tutti i lavori strutturali con la copertura superficiale e l'impiantistica necessaria, ora sarà necessario solo completare l'installazione di residui e telecamere di videosorveglianza previste nel progetto. Nella fase di avvio del contenzioso europeo erano ben 5 su 6 le discariche ricadenti nel territorio della sesta provincia pugliese, oltre alla Cobema infatti c'erano anche l'Igea nel comune di Trani, la Cogeser nel comune di Biceglie, la Fratelli Acquaviva e la discarica di proprietà di Doria nel comune di Andria. Per queste ultime 4 tutte le scariche di inerti, l'iter procedurale si era già concluso tra il 2017 e il 2018 mentre si è dovuto attendere sino alla fine del 2021 per completare alcune delle opere per la discarica canosina e l'inizio del 2023 per il collaudo tecnico, visti anche i sequestri della magistratura che ha aperto nel tempo due inchieste su questo sito, una più vecchia, ormai risalente al 2006 e una più recente scattata nel 2022. Oltre alla Puglia sono state bonificate 3 su 7 discariche in Veneto, 8 su 8 in Lazio, 12 su 13 in Abruzzo, 12 su 14 in Campania, 2 su 3 in Basilicata, 7 su 9 in Sicilia, 20 su 22 in Calabria, 1 su 1 nella Toscana e 0 su 1 nelle Marche. Grazie. 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 Grazie.